Campana del 1907, partita la prova anche per la pandemia di Maschi, prossimo traguardo e vorremmo assegnare i primi punti barri di. Grazie! potesse essere percorso guadagno 2 punti la concorrente numero 19 e viva la sospettiva il progettivo sportivo sono a 44 venito da 9 il concorrente numero 11 di San Gabriele il progettivo di questa gara guadagno 2 punti il concorrente numero 5 due punti il concorrente numero 5 e viva la sospettiva 2 punti il concorrente numero 5 si è scoperto di raiosso la sua parte dei punti di rinforzamento 14 2 3 primo punto in questa gatta diamo la matricità di 9 alla pianta di piondi è superato però non è tu ripeto poi vai buonanio dei punti conto del punto 4 il posto è l'argo nel quarto sono 6 1,2,5,6 Nera Fabrizio 1,3,6,4 era lui che stava girando 8 al termine punti in bagno portale 4,5,6 2,5,6,6 0,5,6,5,6,6 7,3 e 4,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Continua! Continua! Loどんリポームで1734の方に、公 любов sobre 性能力を押すことを狙идする場合図の行為提案が発生されるようになります。 前に、20台の中の供下のようなノね。 5 kg con punti con più fatti 4 piedi dalla conclusione attenzione ai 30 prendo punti con 40 e 53 5-6-8 1-2-2-3 6-3 6-6 stiamo avvicinandoci 3 giri d'alterni 3 giri alla conclusione punti tagli 2 cibi 2 puggham con 413 Luca Siviglia aveva 8 400 1-2-2-2-7-3 promenozione 7 sarà 8 punti conquistati 2 soli giri dalla conclusione Siamo in testa piano, Luca Siviglia con 10 punti, 8 punti per Thomas la Provenzio, per la passione prossima lega verso i punti, Siviglia con 5 punti per Giazzi Damiano. Senti i punti per il concorrente 113, Luca Siviglia con 10 punti, per la scuola 12, rigadiamo 1, concorrente 273, per la scuola che mi dà 8, salvatore. Siamo all'ultimo giro, si usa la campana, tutti in base, per il giro di Giazzi Damiano. Damiano ancora due punti, concorrente 113, Luca Siviglia con 10 punti per Giazzi Damiano. Un punti per la scuola, per la scuola che mi dà 10 punti per Giazzi Damiano. diviste, non resta la schiena a condizionare, per la scuola che mi dà 10 punti per il po' high. Siamo allo prossimo giro, nel giro di Giazzi Damiano. Siamo a donove il concorrente 117, Luca Siviglia con 4 punti per Giazzi Damiano, con 4 punti per 5 punti, Mar ngàyero e con 2 punti per Sergio, con 4 punti per un rotator, pennegalello e con 4 punti per Giazzi сожалению. C'è il hard block. Con 4 punti per 5 punti per il giro di Giazzi Damiano. Il punti per la 2 punti per laende non 시mmo, in quel punto di giro di Giazzi Damiano è Mian Assistance, di conseguenza al pensamento